Allora buongiorno a tutti, io inizio con salutare tutti i presenti e ringraziarvi di essere qui soprattutto in un momento così particolare che stiamo tutti vivendo sotto tutti i punti di vista, quindi vi ringrazio di essere qui. Oggi sono Monica Mancini Cilla, vicepresidente della Svem, quindi soggetto attuatore del progetto e ringrazio le Marche che oggi ci ospita qui con il presidente Francesco Acquaroli. Voglio salutare le autorità innanzitutto militari presenti, ringrazio il capitano di Vascello Donato De Carolis, comandante della Capitaneria di Porto di Ancona e direttore marittimo delle Marche. Ringrazio le autorità civili, vedo qui presenti Cristian Fianesi, il vice sindaco di Fano, Massimo Livetti, il sindaco di Senigallia, Elena Campagnolo, l'assessore all'ambiente del comune di Senigallia e Daniele Silvetti, il presidente del parco del Conero. Siamo arrivati ad una fase operativa di un progetto che noi come nuovo CdA della Svem porto i saluti ovviamente del nostro presidente Andrea Santori e del membro del CdA Tabbino Campanelli che non sono potuti essere qui. Prendiamo quindi un progetto in itiner che è il progetto Bluca Funding, sicuramente autorevoli partner riusciranno a spiegare meglio, voglio ringraziare chi ha creduto in questo progetto e ha stato operato, quindi tutto lo staff della Svem, i collaboratori della Svem e in più i partner privati che hanno contribuito con dei fondi sul progetto. Passo la parola al nostro presidente Francesco Accarolica. Buongiorno a tutti, un saluto alle autorità, alla vicepresidente Mancini Cilla e a tutti i sindaci e agli amministratori presenti in sala. Un saluto al comandante De Carolis. Diciamo che per noi la capacità di utilizzare bene i fondi europei è una capacità che credo sia oggi determinante, più di sempre. Siamo anche alle porte dell'inizio della nuova programmazione e comprendere come i fondi europei possono essere utilizzati su progetti concreti, tangibili, che possono migliorare la nostra qualità della vita e la qualità dell'ambiente è un elemento, anche uno sprono a fare di più e fare meglio proprio in questa fase. Ieri sera eravamo in questa stessa sala a fare un'attività di confronto con i corpi intermedi sulla programmazione 21-27 e credo che la capacità di unire la progettualità su un tema come l'ambiente sia un valore ulteriormente aggiunto rispetto all'azione che noi possiamo mettere in campo, le azioni che le amministrazioni possono mettere in campo. Ritengo che l'ambiente e la sensibilità verso di esso sia sempre un ottimo investimento perché riuscire a conservare la nostra potenzialità, la nostra capacità, anche la sensibilità verso questo tema sia anche lasciare degli spazi alle nuove generazioni, ma anche degli spazi a noi stessi, alla qualità della nostra vita e alla qualità dell'ambiente che noi riusciamo a vivere. Sono temi che in questa fase particolare che viviamo tra la pandemia, la guerra, la crisi economica sembrano avere un spazio minore, invece credo che proprio anche in questo momento particolare bisogna rivendicare l'importanza di determinate scelte e anche difendere culturalmente l'importanza di questa sensibilità che noi dobbiamo sempre manifestare, perché la salute dell'ambiente è anche la salute dell'uomo. Ecco, io ringrazio anche tutti i partner che si sono aggiunti, che hanno collaborato al raggiungimento di questo obiettivo e a dare concretezza a questo progetto, ringrazio la Svam e ringrazio tutte le amministrazioni, anche augurando un buon lavoro e speriamo che possiamo anche rivederci per anche sancire i risultati che si sono raggiunti, gli obiettivi che si sono raggiunti. Grazie. Grazie, dimenticavo di ringraziare l'ufficio della Regione Marche, del Dottor Talarico e vedo qui la Dottoressa Laura Gallardini perché hanno supportato amministrativamente tutto il progetto, quindi la Regione Marche è un partner importantissimo. Grazie di nuovo. Allora passerei la parola al Capitano Nato De Carolis, Comandante della Capitania di Porto e di Ancona e Direttore Marittimo, perché poi come ci diranno gli interventi di pulizia, quindi fattive dei porti, inizieranno già da sabato con il Comune di Fano. Prego. Grazie per l'invito. Io oltre a fare un applauso a questa iniziativa che è molto interessante, volevo portare il saluto della Guardia Costiera, che è da tempo impegnata per la salvaguardia dell'ambiente marino nell'inquinamento. Basti pensare che già nel codice di navigazione di circa 80 anni fa, già c'erano degli articoli che prevedevano il divieto di getto di materiali in mare, basta pensare alla legge dell'82 sulla difesa del mare che ci ha visto come i primi attori, ma nella nostra routine quotidiana siamo sempre lì a controllare che tutto avvenga in favore della tutela dell'ambiente. Vari sono state anche le iniziative da parte della Guardia Costiera per combattere questo fenomeno della plastica in mare, basti pensare all'iniziativa Plastic Free Guardia Costiera, date nel conto anche iniziative che hanno avuto anche con il concorso anche di pescatori, hanno avuto il plauso anche del Santo Padre, parlo di esperienze fatte sempre nella regione Marche, San Benetto del Tronto. Questa iniziativa è da lodare perché oltre a prevedere un intervento istituzionale si muove direttamente dal fondo e quindi mira ad avere un effetto di educazione perché siamo tutti quanti sulla stessa barca, quindi tutti quanti dobbiamo amare l'ambiente, quindi ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, quindi grazie di nuovo. Grazie a lei, sicura, ma senza il supporto della caffettina di casa sarebbe stato molto difficile. Allora, passerai la parola a Paolo Baldoni di Garbac Group. Sì, grazie per l'invito. Si parte. Io volevo fare però prima un ringraziamento al Presidente della Regione, ma per un semplice motivo. Quando noi abbiamo varato, no lo voglio dire perché penso che sia una cosa importante, quando noi abbiamo varato due pelican, che l'abbiamo portati qualche anno fa in Thailandia, noi siamo presenti in Thailandia, Phuket e Bangkok, l'unico parlamentare presente era il Presidente, e quindi lo dico perché poi è una testimonianza importante di come lui è stato vicino a nostra attività e comunque a questa attività ambientale. E poi ovviamente ci ha rincontrati a Marina Dorica con il BER, che è questo Blue Economy Research, abbiamo creato una struttura tecnico-scientifica tra noi e i due enti scientifici che ci sono vicini, sia il CNR, la Politecnica delle Marche, e lui è venuto in visita da noi. E quindi oggi, diciamo, avevamo fatto una promessa, che volevamo ritornare qua con un progetto di grande fattibilità e grazie a questo crowdfunding e anche ai fondi europei siamo riusciti appunto a dar atto a queste cose. Detto questo, vi volevo raccontare quello che succederà. Praticamente ci siamo attivati questi mesi, ci siamo raccordati, abbiamo fatto un comitato tecnico-scientifico tra il CNR, tra la Politecnica delle Marche, che sono i due enti scientifici che verranno con noi a fare queste giornate di attività in queste quattro località. Più abbiamo con noi, perché abbiamo coniugato pubblico e privato, e questa è stata un po' la scommessa, diciamo, professionisti e associazioni ambientaliste. Quindi verranno con noi a fare questo tipo di attività, oltre il Pelican che girerà in tutte le quattro aree, ci saranno con noi anche i volontari di Marevivo, Tuenze e anche una serie di volontari, perché siamo riusciti, grazie anche alle Capitanerie di Porto locali e soprattutto anche alle amministrazioni locali. Quindi devo ringraziare tutte le amministrazioni locali e i sindaci, perché siamo riusciti a poter organizzare, anzi sono riusciti a poter organizzare delle iniziative sulle iniziative proprio di sensibilizzazione. Avremo in mare i sommozzatori, che grazie a un gruppo molto importante che si chiama Comaros, che sono qui presenti, ringrazio il Presidente, che andranno sottacco appunto a raccogliere i rifiuti sottacco, e più abbiamo queste associazioni ambientaliste e comunque legate a noi che vanno a raccogliere tutti i rifiuti per quanto riguarda le spiagge dove già le abbiamo individuate. Noi faremo l'attività, ovviamente quella che più ci compete, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti galleggianti, semisormersi e sostanze grasse. Ci sarà l'Università di Ancona, la Politecnica delle Marche e il CNR che faranno una serie di analisi e prelievi appunto dei rifiuti raccolti in quei mari. Quindi ringrazio anche tutti coloro che si sono stati vicino come sponsor, come cittadini, che hanno contribuito perché questo possa accadere. Quindi si parte e l'idea nostra è quella di rendere permanente questi tipi di servizi. Parlavamo proprio questi giorni con il Comandante De Carolis che già ha avuto esperienze in altri porti di questa natura, che mi diceva proprio prima che ha trovato un tessuto economico, sociale e ambientalista molto interessante e quindi vorremmo far partire il nostro modello per poi traslarlo un po' in tutta Italia e anche nel mondo. Ripeto, la nostra tecnologia la stiamo portando un po' in tutti i mari oltre, diciamo, anche oltreoceano. Per quanto riguarda questo vi dico tecnicamente le date. Allora, il 12 e il 13, quindi questo weekend partiremo dal comune di Fano, quindi invitiamo chiunque, perché poi sono anche una manifestazione dove è aperta un po' anche alla cittadinanza, abbiamo già parlato con l'amministrazione comunale, quindi saremo presenti il 12 e il 13 a Fano, il 19 e il 20 andremo a Senigaglia, poi ovviamente parliamo di marzo, il 2 e il 3 aprile saremo presenti a Civitanova Marche, per poi finire al 23, il 24 nella riviera del Cono. Tra l'altro ringrazio anche il Presidente del Parco del Cono che si è stato molto vicino, che insieme abbiamo creato un format molto interessante che si chiama Blue Resilience, proprio per andare a misurare, poi lo fanno questi gli anticientifici, andiamo a misurare quello che poi, l'inquinamento prima e l'inquinamento dopo. Quindi creare un format importante su questo tipo di attività. Quindi è un'iniziativa molto importante, siamo contenti di questi, abbiamo messo in mare uomini, mezzi, know-how, attrezzatura, che penso che possono dare un risultato. Comunque sarà veramente una goccia d'acqua, però inizieremo proprio un processo molto importante in tutte le marche. Purtroppo non c'è il Presidente dell'Autorità Portuale, c'è il Commissario, e il ragionamento è questo. Si parla sempre di una banchina virtuale, 170 chilometri, che chiude da Pesaro, arrivare fino a Ortona, noi vorremmo creare questo processo, non solo nei porti importanti di autorità portuale, ma nei porti più piccoli, perché le correnti, l'inquinamento, ovviamente non hanno situazioni così. Ecco, qui sono tutti presenti, coloro che saranno con noi in mare, a fare questo tipo di attività. Se volete alcune specifiche tecniche su quello che sarà l'attività scientifica, qui abbiamo il Direttore del Compartimento, voglio dire CNR IRBIM, Marco Luna, e anche il Professor Regoli della Politecnica del Dipartimento di Sva, quindi potete chiedere qualsiasi cosa, perché loro hanno un po' redato la parte, quella scientifica. Allora, la ringraziamo, poi ovviamente avremo modo di dire la parola ai partner scientifici. Chiedo per un saluto magari al Cristian Fanisi, al Vice Sindaco di Fano, visto che farà da apripista al progetto. Grazie di essere qui, porto anche i saluti al Sindaco di Civitanova, che non è potuto essere qui per problemi legati all'emergenza ucraina. Grazie. Porto, il mio saluto è della città di Fano, ovviamente con molto piacere, ringraziando Svem, tutti i collaboratori, la Capitaneria di Porto e la Regione Marche che ha promosso questa iniziativa. Siamo onorati di essere il primo comune che viene, tra virgolette, curato attraverso questo progetto. Siamo molto contenti, ovviamente accompagneremo e lo facciamo da tempo tutte queste attività anche con una sensibilizzazione verso la cittadinanza che crediamo sia molto importante. Quindi grazie per questo progetto e poi il 12 vi aspettiamo, come giustamente è stato detto, a Fano per vedere e capire quello che si farà veramente in pratica e in concreto. Grazie. Grazie a voi di essere qui. Allora, chiamo il Sindaco di Senigallia che è il secondo comune il 19-20 marzo. Sì, anche per noi è un grosso onore. Cercheremo il nostro assessore all'ambiente Elena Campagnolo che è qui presente. Lo stesso giorno ha organizzato due giorni appunto di pulizia anche delle spiagge quindi non so. Per cui sarà un discorso che è completo, abbastanza completo e soprattutto educativo. Ringrazio ovviamente la Svem per questa opportunità che ci viene dato, le autorità marittime e ovviamente la Regione Marche. È evidente che anche per noi il mare è una priorità e l'attenzione ambientale è uno degli aspetti focanti su cui noi ci stiamo muovendo. Grazie ancora. Grazie a lei, Sindaco, perché poi effettivamente senza la collaborazione dei comuni questo progetto non potrebbe essere realizzato. Chiedo al Presidente del Parco del Conero e lo ringrazio di essere qui il 23-24 aprile quindi in un momento speriamo migliore saremo lì al Parco del Conero. Daniele Silvetti, Presidente. Grazie, grazie dell'invito, del coinvolgimento. Noi siamo gravemente fra i soggetti beneficiari di questo tipo di iniziativa così importante che si va sostanzialmente a concatenare con un'altra con altre iniziative per noi estremamente importanti in termini di sostenibilità la nostra è un'area protetta che gestisce il territorio gestisce terra e si gestisce sul mare abbiamo chiaramente una nostra competenza anche a mare e quindi abbiamo un particolare interesse a iniziative come queste e la progettualità non manca noi come ente strumentale della Regione siamo deputati a gestire questa porzione di territorio così delicata e così sensibile sotto vari punti di vista per cui ringraziamo ovviamente non solo gli enti ma ringraziamo ovviamente anche il partner privato che sta dimostrando una grande professionalità e grande attenzione alle tematiche del territorio grazie senza poi la sensibilità dei privati allora chiamo adesso i partner scientifici magari se si vogliono accomodare il professor Francesco Regoli dell'Università Politecnica delle Marche direttore del Dipartimento di Scienza della Vita dell'Ambiente grazie e il dottor Gianmarco Luna direttore di CNLI a Biancona grazie grazie di essere qui innanzitutto buongiorno a tutti a me piace questa iniziativa soprattutto ecco dargli anche una prospettiva che non sia solo quella come dire legata all'iniziativa in quanto tale ma le implicazioni sono le prospettive che può avere anche a livello europeo abbiamo sentito prima l'importanza della protezione della salute degli oceani la comunità europea ha addirittura una mission nell'ambito di Europa sulla protezione degli oceani che vede nella protezione dall'inquinamento e dall'inquinamento da plastiche una delle priorità da proteggere non sono solo come dire azioni teoriche ma è già uscito per esempio un primo bando nella progettualità europea che prevede proprio dei dimostratori delle zone in cui testare le tecnologie e le azioni per la prevenzione e il contrasto all'inquinamento da plastiche e con tutti gli attori che sono coinvolti in questa azione di mare circolare c'è l'idea c'è la proposta speriamo che Ancona possa diventare uno di questi dimostratori a livello europeo per far vedere a partire dal 2025 diffonderlo negli altri paesi come effettivamente queste azioni si possono trasformare in qualcosa di concreto c'è una direttiva europea sullo zero pollution che è anche questa chiaramente indirizzata verso questo tipo di azioni e anche in quest'ottica con delle attività il CNR coordinerà una delle azioni del PNRR nell'ambito delle quali gestiremo di nuovo un'azione concreta di prevenzione all'inquinamento e all'inquinamento da plastiche in particolare esistono altre progettualità anche a livello nazionale Cari Verona progetti di rilevanza nazionale quindi il nostro territorio credo si possa da un certo punto di vista distinguere proprio per queste interazioni che ci sono tra gli enti scientifici le istituzioni il parco del Conero abbiamo tante iniziative tante collaborazioni in atto la guardia costiera il comparto privato e vi assicuro che anche a livello europeo questo non è facile da trovare così come come dire era impensabile fino a dieci anni fa che in uno stesso tavolo ci fossero rappresentanze di interessi e di prospettive così diverse quindi questa visione questa integrazione che veramente è il valore che aggiunge qualcosa di più alle eccellenze che ciascuno singolarmente porta credo che sia un qualcosa che possa farci ben sperare e esportare un pochino questo modello Ancona questo modello Marche ben al di fuori del territorio regionale grazie ovviamente del grazie a lei passiamo la parola al dottor Gianmarco Luna direttore del CNL Ancona non posso che confermare quanto ho detto dal direttore del DISVA perché di fatto questa iniziativa che è un'iniziativa che supportiamo fortemente di fatto racconta che ad Ancona esiste appunto già questo modello un modello di interazione pubblico privato istituzioni dedicato ai problemi del mare di cui chiaramente la plastica rappresenta uno dei problemi non l'unico ma che certamente dimostra che Ancona in qualche modo può proporsi come un modello non solo nazionale ma un modello anche europeo alla luce di tutte le iniziative che stanno nascendo e che nasceranno nei prossimi anni è chiaro che qui ci troviamo di fronte ad un problema importante che è quello del rifiuto un problema che vediamo quindi crea problemi chiaramente estetici problemi al turismo crea anche problemi alla salute degli oceani che poi sappiamo essere anche la nostra perché poi questi rifiuti possono frammentarsi e finire nella rete trofica una cosa che vorrei sottolineare è anche questo che questo tipo di problema poi ha in sé anche il potenziale di poter rappresentare un'opportunità perché possiamo veramente ipotizzare di finalmente avviare una vera e propria filiera di economia circolare nel portare a casa tutto questo rifiuto che è presente nei nostri mari italiani con una concentrazione in Adriatico che ahimè per la sua conformazione è tra le più importanti in Italia per il numero di rifiuti presenti sui nostri fondali ma possiamo riportarlo a terra attraverso uno sforzo enorme e trasformare questo rifiuto in un'opportunità per costruire nuove filiere territoriali che in qualche modo sappiano riutilizzarlo riciclarlo e trasformarlo in un prodotto che magari ha un valore aggiunto perché poi nel nuovo prodotto che creiamo abbiamo anche fatto del bene agli oceani e questo lo abbiamo già sperimentato con successo ad Ancona appunto attraverso molti dei partner che sono qui attraverso un protocollo che abbiamo firmato e che ha già dimostrato che è una cosa che si può fare quindi iniziative come queste non possono fare altro che bene a tutto il sistema nel caso specifico di questa iniziativa mare circolare dove noi partecipiamo fornendo risorse fornendo i nostri mezzi nautici fornendo le nostre competenze finanziando anche una borsa di studio il cui bando uscirà adesso proprio per dare a questa iniziativa anche quel giusto supporto scientifico ed è proprio quello che vogliamo fare nel corso di queste campagne quindi come già detto abbiamo intenzione di andare realmente sul campo e quindi di affiancare le associazioni che si occuperanno della pulizia noi affiancheremo queste attività con delle campagne scientifiche dove appunto tra l'altro sui nostri mezzi potremo anche eventualmente valutare la possibilità di ospitare anche rappresentanti della stampa proprio per far sì che all'interno di queste campagne noi in qualche modo riusciamo a mappare meglio il problema a capire lungo le nostre coste qual è il problema rilevante a capire meglio qual è la distribuzione di questi rifiuti sui fondali e nella colonna d'acqua con attenzione chiaramente anche a quella componente che non vediamo che sono le microplastiche e a portare diciamo approfittare di questa occasione anche per produrre un po' di conoscenza in più perché poi quella è sempre necessaria la ringrazio mi ha dato l'assist per ringraziare le aziende di igiene urbana del territorio appunto per la pulizia delle spiagge Asset Rieco Cosamir è anche un ambiente perché oltre alla pulizia dei fondali marini ci sarà la pulizia delle spiagge e quindi effettivamente gestiranno tutte queste associazioni che saranno impegnate sul territorio allora se non ci sono interventi da parte della stampa che la saluto saluto sia quella collegata e quella presente perché per chi mi conoscesse io vengo da quel mondo quindi sono tutti i miei colleghi della stampa quindi se ci sono domande magari soprattutto i partner ok allora penso che non ci sia quindi io ringrazio nuovamente tutti per conto della Svam ringrazio la regione Marche e soprattutto tutti i presenti perché come abbiamo detto è un momento molto particolare grazie grazie buona giornata grazie grazie